Al di là delle solite polemiche alimentate dalle opposizioni, il 14 si farà finalmente chiarezza. Ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, finiranno così i tatticismi. Si voterà a favore o contro il governo. Io sono convinto che la fiducia passerà, nel frattempo la Lega continua a lavorare in Parlamento negli interessi dei cittadini. C'è l'ipotesi che il provvedimento, la riforma Germini, arrivi al Senato prima del voto di fiducia, prima del 13? Domani ci sarà una capigruppo, vedremo insieme con i rappresentanti di tutti i gruppi al Senato come calendarizzare questo provvedimento. Noi non vogliamo imporre niente a nessuno, l'interesse è chiudere la riforma il prima possibile, però vedremo insieme in che calendario possiamo inserire questo provvedimento.